Il Corso Quest'anno è la rete di Barcolini, attenzione al controfuga, è la rete, Bordovani, nel difinto Bordovani, gol, Mandelli, gol, ora chi è che ne ha di più sono due squadre? Previe, Previe, prova, il gol, pensare a difendere, è finito il tempo di posizione, è rete, Caterina Corbi, para Caterina Vanghelli, sono accorti gli arbitri, stavano commettendo pallo, ora Florenza, cotti! 12 secondi da giocare, è la rete, in possesso palla con Caro Tenuto, è la rete! Grazie a tutti!